ciao hai un ktm anch'io ho un ktm però è nero andiamo a fare un giro vai che ti seguo fidati partiamo benissimo cosa? cosa? perchè? partiamo benissimo va bene va bene cosa? non riesco a starti dietro ma perchè? ma sei andato bene fino adesso ma che cazzo? c'è un problema che non no no merda no cacca no no ho un problema porca di quella puttana ma chi te l'ha chiesto? è andata mi ha lasciato qua e vabbè se ne accorgerà dai qual è il problema ma dai ma Gesù ma Gesù Gesù una volta mi disse tu non devi andare in moto sai perchè? perchè sei stronzo Gesù Cristo aia Gesù bambino se sta pipetta di merda stesse al suo posto andiamo bene andiamo bene cioè non faccio un vlog da 18 anni oggi esco muore ma vabbè ma vabbè ma vabbè dai 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 secondo me sei tu che sei una stronza te l'ha mai detto che sei stronza te l'ha mai detto te lo dico io fidati sei stronza ma porca di quella troia son sicuro che sei tu la stronza il problema guarda mi ci gioco i coglioni me li gioco qui che sei tu il problema dai 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 secondo me è andata sia tipo al paese di là non si è accorta che non ci sono più che puttana dai 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 c'è già il titolo di sto video il motovlog più corto della storia trova meno uno uguale ma porca puttana addio Gesù bambino e quando ha deciso di nascere se ne accorta c'è ti sei acceso adesso ha fatto lo stesso problema dell'altro giorno è morta come ho aperto è morta sei morta vieni qua infatti non ti ho più di fretta mi è caduto da qualche parte no ma ero preoccupato eh ce l'hai ottimo cosa è fango dove no è fango è acqua e olio e e e ma c'è il carter svitato come c'è il carter svitato no una due ma com'è possibile c'è il carter svit come ha fatto a svitarsi noi noi non abbiamo chiavi dietro no noi dovevo andare a prendere si la porta a casa ma non è tanto l'acqua ma non è tanto l'acqua e si è rimasto olio ce n'è ma si è piena e è piena dopo che l'hai messa in moto bene e niente ti aspetto ma ho perso il microfono no amore mi è caduto il microfono eh la devo appoggiare all'albero dove cazzo l'appoggio? ah mi sono agganciato la tiene? no e quale ti do? questa? credo che muore perché troia aspetta mi sembra strano però che ci siamo svitati che è stronzo vabbè oggi ho una giornata così ma l'insegna della merda forse di due mori accesa? lo so eh la spengo dopo almeno c'è del divertimento sei? vai ciao torna con le mie chiavi e niente e niente bettino eh andiamo san Dio minchia le spine di questo albero sono una cosa devastante e e andiamo nel buco mi metterò lì ad aspettare più che un motovlog è un piedi vlog questo no bruttissima questa cosa mi sono immaginato uno che fa un vlog inquadrando solo i suoi piedi per veri feticisti che spettacolo cioè non per me eh a me non piacciono i piedi mi fanno cagare i piedi oh ma queste balle qui di fantastico grazie contadini ogni tanto pensate a me al mio disagio Gesù comunque il bettino è più pesante del K vorrei dire sono solidi puttana se sono solidi sti affari sono più solidi di me va che roba e niente vabbè allora non doveva andare in questa maniera ma la situazione più o meno è questa adesso vi faccio vedere da vicino la sfiga che faccia bella l'altro giorno praticamente eravamo per strada una certa è morta e non avevamo notato nulla di strano se non quella pipetta di merda che continua a staccarsi ogni volta e neanche col silicone di santo signore nostro sta attaccata e è un cazzo e pensavamo che magari ci fosse fosse entrata con il carburatore perché l'altro giorno c'era un botto di di acqua fango schifo noi ci siamo divertiti a buttarci dentro e il bettino non è fatto per fare queste cose il bettino è fatto per andare a fare la spesa quindi pensavo che pensavo di aver fatto un danno io pensavo di aver invasato tutto come ai vecchi tempi di quando ero 14enne e non capivo un cazzo invece no ci sono le viti del carter svitate che io mi chiedo come stracazzo è possibile che si svitano le viti del carter ma le aveva mostrette con la forza di Gesù allora qua manca la vite campione che ho lasciato a Lia ma anche le altre allora questa è dura questa è dura questa è dura questa è molle pezza di fango che non sei altro quindi due viti molli su su tutte sì perché le altre stanno bene quindi vuoi dire che per due viti di merda sto stronzo ma dai ma non è possibile ci sarà anche qualcos'altro non possono essere solo due viti cioè questi motori qua vanno anche con l'olio delle patatine secondo me c'è anche il fattore pipetta perché sta pipetta qua è è un po' malandata e si stacca un po' troppo facilmente però abbiamo fatto apposta la modifica dentro per farla rimanere agganciata ma niente lei deve fare la principessina e staccarsi vabbè minchia la sento madonna se si sente il K magari è tipo ancora a casa e da qua la sento veloce come un fulmine ma è morta? vabbè penso che tra poco morirà quindi ah i guanti quindi niente vi saluto è stato bello io volevo registrare un vlog non ti ne